Amici 17, Paola Turci e Giussi Ferreri nuove professoresse di canto, tutte le indiscrezioni Amici 17, Paola Turci e Giussi Ferreri nuove professoresse di canto, tutte le indiscrezioni. 2 ottobre 2017, di Samantha Suriani Paola Turci e Giussi Ferreri sono le new entry del cast della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dopo laddio di Fabrizio Moro e Alex Brega tra i professori di canto, arrivano le due artiste a sostituirli al fianco di Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco e Boosta, ancora non confermati. Questa storia della cantautrice impegnata ha rotto, lo ribadisco io guardo amici, ha dichiarato ai microfoni di Radio Italia qualche tempo fa Paola Turci. Alla fine oltre a guardare Amici di Maria De Filippi, sarà anche una delle protagoniste. . La Turci e la Ferreri vanno così a sostituire Fabrizio Moro e Alex Brega che hanno detto addio alla trasmissione di Maria De Filippi. Sono invece confermati Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco e Boosta dei Subsonica. Al momento sembra confermato solo Zerbi, mentre degli altri non si hanno notizie. Per quanto riguarda il ballo non troveremo più Clary, mentre restano Veronica Pepperini, Alessandra Celentano e Garrison. Gli addi quest'anno non lo so perché il tour fa una pausa di un mese dopo il live del 20 settembre a San Vito Lo Capo, Trapani, in Sicilia ma poi continua anche in inverno, toccheremo 10 città italiane. . Non so, credo di no, però bisogna ancora vedere e, ha detto Fabrizio Moro a Radio Italia per ufficializzare il suo addio, credo proprio di no. Perché è un impegno che assorbe molte energie e quindi posso reputarmi soddisfatto così, ha aggiunto poi a Il Giorno. . . . . .